se avete avuto la pazienza di seguire la prima parte della puntata dedicata a santa maria in trastevere penso che qualche elemento di interesse potrà suscitarlo anche questa seconda parte innanzitutto osservando la struttura della chiesa si possono notare ben 11 cappelle alcuni in fase di restauro altre le più interessanti riservate al culto e pertanto il rispetto ci impone di non travalicare la soglia partendo dalla navata di destra subito all'ingresso un tabernacolo di marmo quattrocentesco che conservava l'olio santo realizzato con la tecnica dello stiacciato termine toscano che sta per schiacciato e che consiste nel ridurre lo spessore del rilievo per dare un senso di prospettiva l'opera è firmata da maestro mino del reame citato dal vasari come persona prosontuosa e arrogante a seguire un dipinto sempre del quattrocento della vergine col bambino e procediamo per le cappelle che rompono all'interno qualsiasi filo di unità dovuto forse ai differenti anni in cui sono state ristrutturate e ognuna fatta secondo il gusto e le possibilità dei committenti nella prima settecentesca completata dall'architetto francesco ferrari seguace di carlo fontana e attivo soprattutto nei restauri un monumento funebre del cardinale pierfrancesco bussi morto nel 1765 il quarto giorno prima delle iddi di settembre cioè il 10 e di fronte quello dell'altrettanto cardinale giovan battista senior viterbese morto nel 1726 il decimo giorno prima delle calende di gennaio cioè il 23 dicembre opera di giovan battista de rossi sconosciuto all'anagrafe ma citato come scultore di stucco a causa della persistente oscurità non vi posso mostrare il quadro settecentesco dell'altare che rappresenta santa francesca romana tra steverina dipinta dal modenese giacomo zoboli comunque non era imperdibile settecentesca è anche la seconda cappella progetto dell'architetto filippo raguzzini da napoli che tra l'altro ha costruito l'ospedale di san gallicano e il santuario del divino amore mentre la pala adattare una natività è di etienne paroselle avignonese che stabilitosi a roma muta il nome in stefano e viene soprannominato il romano a seguire un cristo in legno policromo quattrocentesco appena restaurato e in posizione provvisoria e una testa che è attribuita alla scuola del bernini la quarta cappella cinquecentesca dovrà speriamo essere restaurata si intravede un'opera san pietro che riceve le chiavi un quadro seicentesco del romano giuseppe vasconio avviandoci verso il transetto si nota un monumento sepolcrale del cardinal pier marcellino corradini da sezze morto nel 1743 che qui è stato sepolto opera del fiorentino filippo della valle il transetto è costituito da monumenti sepolcrali ai lati e da due cappelle che affiancano l'altare maggiore nella parte destra sovrastato da un organo cinquecentesco donato dal cardinale altemps di cui avremo modo di parlare c'è la tomba del cardinale armellini nato pantalassi da perugia e di suo padre benvenuto opera inizialmente attribuita ad andrea sansovino e oggi a michelangelo da siena giusto in tempo prima che la calata di l'ansichenecchi gli togliesse le sue ricchezze accumulate si dice in maniera poco ortodossa pare che alcuni versi della quarta satira di ludovica riosto siano a lui rivolti anche se il nome è anagrammato in ermelian come a lui sono dedicate diverse pasquinate che sottolineano la sua avidità al centro san lorenzo e san francesco il primo colui che distribuisce ai poveri prima del martirio il denario della chiesa e il secondo che non ha bisogno di spiegazioni riguardo la sua vocazione alla povertà il cardinale aveva di sé una ben diversa visione posta a fianco del presbiterio troviamo la cappella del coro d'inverno progettata dal bolognese domenico zampieri detto il domenichino intorno al 1625 che ricordiamo ha disegnato anche il soffitto della navata centrale al centro contornata da una serie di angeli un'immagine miracolosa la madonna della strada cupa detta così dal luogo del ritrovamento mentre il coro lineo è settecentesco come settecentesca e la tela della fuga in egitto attribuita a carlo maratta da camerano a fianco della cappella la tomba monumentale cinquecentesca del cardinale stanislao osio da cracoia molto attivo nella lotta al protestantesimo tanto che lo lascia chiaramente intendere giù in basso osserviamo l'altare inferiore sovrastato da un ciborio rifatto da virgilio vespignani nell'ottocento sorretto da colonne antiche e il coro sempre ottocentesco con al centro una cattedra marmorea risalente al dodicesimo secolo in parte rifatta e da non perdere il cero pasquale un candelabro duecentesco una colonna tortile a mosaico con sopra un piccolo capitello in stile corinzio e il giù a forma di aquila a terra resti del pavimenti precedenti al restauro ottocentesco spostandoci a sinistra troviamo un altro monumento sepolcrale dove è sepolto roberto altemps il figlio del cardinale marco sittico altemps austriaco nato son home fatto decapitare a 20 anni da papa sisto quinto con l'accusa di adulterio anche se la sottostante lapide firmata dalla moglie cornelia orsini evita di ricordarlo la tardo cinquecentesca cappella del transetto sinistro fu ideata dall'architetto martino lunghi il vecchio david giù e decorata da pasquale cati da jesi allievo del cavaliere darpino e commissionata dal cardinale altemps qui accanto a suo zio pio quarto la sottostante didascalia si riferisce al fatto che il papa aprì e chiuse l'ultima fase del concilio di trento nel 1563 e la cui celebrazione è affidata ai quadri laterali ridotta piuttosto male è la pala d'altare tre tavole in cipresso ricoperte da una tela di lino conosciuta come la madonna della clemenza una delle cinque icone mariane esistenti a roma risalente all'alto medioevo tra il sesto e il settimo secolo e relativamente al periodo la più grande al mondo nonostante ripetuti interventi lo stato vetusto si può notare la figura frontale che indossa le vesti purpure e gli ornamenti della regina bizantina a cui tuttavia fanno da contrappeso le figure degli angeli che nei volti richiamano l'arte greco romana sul lato corto del transetto un monumento funebre l'edicola gotica sostenuta da due colonne tortili fu donata dal cardinale philippe d'alencon de valois nipote del re di francia philippo sesto nel 300 ma l'attuale posizione si deve al cardinale altemps che qui la porta nel 1584 affinché non occupi la navata laterale della chiesa come riportato nell'iscrizione in basso dentro la lunetta nel rilievo è rappresentato lo stesso d'alencon orante così come in basso a destra viene rappresentato altemps nel quadro con san filippo e san giacomo che quindi dovrebbe essere o rifatto a fine 500 e attribuito al veneziano jacopo palma il giovane a sinistra dell'edicola la tomba del cardinale philippe d'alencon con in basso il rilievo la dormizio virginis e a destra la tomba quattrocentesca del cardinale pietro stefaneschi degli annibaldi morto il 30 ottobre del 1417 con un'iscrizione in versi opera firmata da maestro paolo uno sguardo al soffitto a cassettoni di fine 500 dove si vide in primo piano lo stemma di pio nono al secolo mastai ferretti che lo fece restaurare nel 1872 e che possiede due record essere il più longevo papa della storia escludendo pietro che si dice guidò la nascente chiesa per 34 anni circa ed essere l'ultimo sovrano dello stato pontificio lasciamo il transetto e incamminiamoci a ritroso nella navata laterale sinistra la quinta cappella che troviamo e la tardo secentesca cappella di san giacomo costruita per la famiglia avila dal reatino antonio gherardi opera in cui dalla finta prospettiva ai giochi concavo convesso è abbastanza evidente l'influsso borrominiano la quarta cappella oltremodo buia e infotografabile dedicata al sacro cuore la saltiamo mentre merita uno sguardo il pulpito ligno abbarbicato su una colonna metà chiesa a testimonianza che gli impianti audio sono una recente invenzione poco oltre la tomba di papa innocenzo secondo qui traslato dopo l'incendio del 1308 che quasi distrusse la basilica di san giovanni laterano il monumento neoclassico del secondo ottocento e opera di virginio vespignani l'architetto romano a seguire la cappella di san francesco affrescata da ferrauffen zoni di faenza fine 500 quindi quella che è nata nel 1618 come cappella dedicata a san mario e san callisto e figgiati nella pala d'altare oggi è dedicato alla madonna del divino amore l'ultima cappelletta è quella del battistero a forma ottogonale nata originariamente come semplice cappella in onore di san michele arcangelo e trasformata dal cardinale altemps sempre a fine 500 in alto sopra le colonne santi e freggi sono ottocenteschi e con questo abbiamo terminato vidlab vi saluta ciao 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 ciao